I minatori in sciopero da mesi, da lesbiche e gay gli ebban supporto, il fatto gli ebbe i riflettori accesi e inglese un c'è che non se ne fosse accorto. Purtroppo un c'è da rimane sorpresi, le dure lotte e le un'andonna in porto, in cui braccio di ferro, tante braccia, un lafie con la margaretta cia. Ma dell'esempio un fecian carta straccia, l'unione fa la forza, sì signori, quell'esperienza la lasciò una traccia, ai pride e stilonno i minatori. Ancun mia mio ci messe la faccia, John Palmer nelle foto ha colori, sicché i film l'ho apprezzato tanto e alla fine io c'ho anche pianto.